Armi da guerra sulla tettoia di un box in un borsone sportivo. Attorno i palazzi del rione Moscarella di Castellammare di Stabbia, quelli popolari dell'8-4, al centro di un triangolo scaleno a cui i lati corrono due strade statali e viale della Repubblica. La scoperta è dei carabinieri della sezione operativa stabbiese. Coperto da erbacce, edere e da rami secchi, un borsone di tela blu poggiava sulla lamiera barcollante di un piccolo box abusivo. All'interno, erosi dalle intemperie e dalle piogge ma perfettamente funzionanti, otto armi da fuoco pesanti. Un fucile d'assalto AK-47 Kalashnikov, un fucile a pompa SPAS calibro 12 di quelli capaci di sfondare una porta, e poi due fucili d'assalto Stair Auge di produzione austriaca con una cadenza di tiro pari a 650 colpi al minuto, quasi 11 al secondo. Ancora un fucile a pompa M860S Maverick Eagle Pass con matricola a brasa, due doppietta a canne mozze, un fucile da caccia. Le armi sono state sequestrate a carico di gnoti e saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate in azioni criminose.